Allora, Marta Menegatti e Laura Giambini, dopo la vostra prima partita all'Europei di Beach Volleyball, iniziate dandoci una vostra impressione di questa prima partita. Ma direi che è stata una partita molto... no, è stata davvero una forte emozione per me, non solo entrare in campo ad un torneo europeo, ma giocare ad una finale europea, scusa, sono ancora un po' emozionata, ma soprattutto giocare con la coppia numero uno, che è appena uscita da una finale di un 5 Stelle a Gestad, è qualcosa di indescrivibile. Sono molto contenta, abbiamo dato veramente tutto quello che avevamo in campo, per noi, per la nostra federazione, per il nostro gruppo sportivo dell'aeronautica che ci aiuta e ci sostiene sempre, quindi contenta, molto contenta. Hai detto tutto, Laura? No, io penso che sicuramente è un grande orgoglio per noi, per il nostro staff, per come ci siamo preparate a questa finale europea e ce la siamo goduta, dal primo all'ultimo punto e, come detto prima, ci siamo divertite un sacco in campo, siamo state unite e abbiamo lottato fino alla fine, quindi sono molto orgogliosa di noi e adesso sotto chi tocca. Vai!